Contestato, che un paese ha messo a rumore, con la sua smaglia di libertà, ogni mattina alle 4 in 1, un'ora al 2 degli altri colleghi, non c'è bisogno che io ve lo spiego, lui da la sveglia alla comunità. Dalla padrona ai vicini di Fugliato, vanno a chiedere a morte il pennulo, però tengono solo un rifiuto e vanno tutti dall'autorità, solo 200 colpazze e cartelle, ad ottenere lo scopo dei Cinesi, i loro Sita commettono in crisi e lo costringono ai perveni. Forza! Se gli unici è il consiglio d'urgenza, bla 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 tuona un consigliere, ognuno fa il certo proprio dovere, si passi ai voti, ai voti, ai voti. Poi una guardia si è calcolato, per mostrare il decreto firmato, le signo in campo è infidato, caso contrario arrostito sarà. S'annuncia l'alba ad un grigio mattino, le quattro ancora sono suonate, è tutto sveglio il suo vicinato, si chiede ansioso che cosa farà. Ed ecco il gatto che come un giorno, sbavanda avanza al centro del prato, si guarda intorno e tira come un fiato, scuote la cresta e canta così... Giornale radio, questa mattina alle ore sei il gallo è stato decapitato. Si può campare un giorno da gatto, o per cent'anni da bolligoria, poi con un spante si è fatto ammazzare per godere la sua libertà. Giornale radio, giornale radio, giornale radio, giornale radio... Grazie! 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 Grazie!